Ciao bambini, benvenuti in questo nuovo video didattico, dal titolo Alla ricerca della pulsazione. Cos'è la pulsazione, bambini? La pulsazione è l'unità di misura della musica, è praticamente il motore della musica. Essa è scandita regolarmente sia nei brani veloci veloci e sia in quelli molto lenti. E allora, proviamo a battere le mani a tempo con la musica che sta per arrivare. Ma attenzione bambini, perché ci sono delle musiche molto diverse tra di loro. Alcune rendono la pulsazione molto evidente e altre invece la tengono un po' nascosta. Però tranquilli, la pulsazione c'è sempre. Pronti con le mani, pronti con le orecchie e allora in mancia. Proviamo con le mani, via! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! bravi